come preparare il calendario tagliare le pagine del calendario inserire correttamente in cima le colonne i giorni del mese o scrivendoli oppure ritagliando quelli qui forniti e incollandoli ricordate che i giorni cambiano con le date di ogni anno prima di procedere procuratevi in alto calendario per farvi riferimento con l'apposita macchinetta perforate i fogli in alto con due buchi inseritevi poi una corvicella o un nastro in modo da poter appendere il calendario al muro potete anche ritagliare dei fogli colorati e fare un collage sulle stesse figure del calendario grazie a tutti 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 grazie a tutti